se consideri le colpe o signore signore chi ti può resistere con te e il perdono dio di israele nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo il signore sia con voi fratelli e sorelle questa domenica il signore ci ha chiamati qui a fatima questo luogo santo vicini a maria santissima dove dio ha permesso a lei di apparire all'umanità rappresentata dai tre pastorelli vogliamo sentirci anche noi pastorelli venuti e chiamati da dio in questo luogo per chiedere perdono per noi e per i peccati del mondo intero pietà di noi signore mostraci signore la tua misericordia dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna signore pietà cristo pietà signore pietà gloria dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal signore noi ti lodiamo ti benediciamo ti adoriamo ti glorifichiamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa signore dio re del cielo dio padre onnipotente signore figlio unigenito gesù cristo signore dio agnello di dio figlio del padre tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica tu che siedi alla destra del padre abbi pietà di noi perché tu solo il santo tu solo il signore tu solo l'altissimo gesù cristo con lo spirito santo nella gloria di dio padre a me preghiamo ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia o signore perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli al libro del profeta esaia preparerà il signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande un banchetto di vini eccellenti di cibi succulenti di vini raffinati e gli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni eliminerà la morte per sempre il signore dio asciugherà le lacrime su ogni volta l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra poiché il signore ha parlato e si dirà in quel giorno ecco il nostro dio in lui abbiamo sperato perché ci salvasse questi è il signore in cui abbiamo sperato rallegriamoci esultiamo per la sua salvezza poiché la mano del signore si poserà su questo monte parola di dio rendiamo grazie a dio abiterò per sempre nella casa del signore abiterò per sempre nella casa del signore il signore è il mio pastore non manco di nulla su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce rinfranca l'anima mia abiterò per sempre nella casa del signore mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me abiterò per sempre nella casa del signore davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici ungi di olio il mio capo il mio calice trabocca abiterò per sempre nella casa del signore sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita abiterò ancora nella casa del signore per lunghi giorni abiterò per sempre nella casa del signore Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza sono allenato a tutto e per tutto alla sazietà e alla fame all'abbondanza e all'indigenza tutto posso in colui che mi dà la forza avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli Amen Parola di Dio Alleluia 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 Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati Alleluia 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 Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo Alleluia In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze ma questi non volevano venire mandò di nuovo altri servi con quest'ordine dite agli invitati ecco ho preparato il mio pranzo i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto venite alle nozze ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo chi ha i propri affari altri poi presero i suoi servi li insultarono e li uccisero allora il re si indignò mandò le sue truppe fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città poi disse ai suoi servi la festa di nozze è pronta ma gli invitati non erano degni andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze usciti per le strade quei servi radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali parola del signore la parola del vangelo cancelli i nostri peccati sia lodato Gesù Cristo il signore vuole preparare la festa di nozze la festa di nozze e siamo tutti invitati però come abbiamo capito in questi giorni dalla storia dalla tragedia il patrino diceva che Fatima è una tragedia una tragedia perché perché ci sta questa immolazione soprattutto dei due pastorelli dei due fratellini Francesco e Giacinta in una gara a chi a chi consolasse o si sacrificasse di più ecco allora in questa chiamata che il signore fa all'umanità di partecipare alla festa di nozze quindi ad una gioia e lo sposo chi è? E lo sposo è Gesù è lui che vuole sposare ciascuno di noi e sì Gesù vuole essere lo sposo della Chiesa è lo sposo della Chiesa e la Chiesa è fatta da tutti noi da ciascuno di noi solo che in questa Chiesa lo vediamo attraverso le parabole lo troviamo nella storia di Gesù lo troviamo nella storia di tutti i Santi i quali diciamo non sono stati compresi perché questi servi chiamati inviati a chiamare gli invitati questi invitati tante volte non vogliono andare alle nozze perché perché ritengono che ci sono cose più importanti ingannati ovviamente ingannati dal maligno non sanno vedere la bellezza dell'invito l'importanza dell'invito l'importanza di rispondere all'invito per cui sono presi dai loro affari chi ha il proprio campo chi ha i propri affari e poi c'è anche il fatto che questi servi vengono maltrattati come Gesù Gesù viene maltrattato chiamato Gesù a fare del bene non viene compreso allora occorre ecco questa generosità di anime generose come i santi e non c'è bisogno ecco neanche di di fare come hanno fatto Giacinto Francesco che sono stati chiamati in modo particolare a vivere la santità eroica della della preghiera e della penitenza loro chiamati proprio in un modo specialissimo però ci sono di grande esempio a noi per vivere nel nostro quotidiano il lavoro la famiglia quello che va bene quello che va male quello che vorremmo che ci fosse che non c'è ma che nella fiducia dobbiamo sperare da Dio ecco allora imparare da questi bambini a essere anche noi uomini di preghiera e di penitenza ripeto non straordinaria loro sono stati chiamati ad una penitenza straordinaria ma io direi più come quella di Lucia Lucia non è che abbia ecco fatto grandi cose se non quella di cercare di diffondere il messaggio che la Madonna le ha consegnato Dio vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare e così lo dice a ciascuno di noi dobbiamo essere come si può dire trasmettitori della Madonna della sua bontà della sua umiltà della sua carità speranza fiducia in tutte le situazioni della vita ecco anche sotto la croce quindi prendere a cuore le sorti dell'umanità ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo ecco questo sguardo Fatima viene detta anche altare del mondo no altare del mondo perché tutti i popoli vengono qui a a prendere forza a prendere grazia e allora anche noi che siamo venuti da dove siamo venuti ciascuno di noi ecco dobbiamo essere trasmettitori Dio vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare perché lui vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato abbiamo visto fa più un rosario detto bene di mille conferenze di pace che si fanno fra i grandi della terra un rosario detto bene arriva al cuore di Dio una penitenza fatta in ginocchio fa più ha più efficace di una bomba atomica allora ecco chiediamo alla madre nostra madre di Dio madre nostra chiediamo a questi nostri fratelli sorelle che ci hanno preceduto che ci insegnino ancora ad essere ecco uomini di buona volontà buona volontà nel ogni giorno della nostra vita e affidiamo a loro la nostra preghiera di questi giorni le nostre difficoltà le nostre speranze ecco tutto quello che il Signore vuole suscitare nei nostri cuori che si compiano i desideri del cuore immacolato di Maria sia lodato Gesù Cristo Gesù Cristo un po' un po' un po' un po' Grazie. Unipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Al Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Diciamo insieme, custodisci in noi la speranza, Signore. Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo, custodisci in noi la speranza, Signore. Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria. Sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo, custodisci in noi la speranza, Signore. Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo, custodisci in noi la speranza, Signore. Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo, custodisci in noi la speranza, Signore. Per noi, che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza figliale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo, custodisci in noi la speranza, Signore. Un attimo in silenzio, ognuno di noi, nel suo cuore, eleva a Dio le proprie suppliche, preghiere e ringraziamenti. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero, accresci la nostra fede, perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Grazie. Sprendi solo quello che sei. Ecco, appoggia e porta lì. Grazie. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'Universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. E' vero che sei con il Signore. L'acqua, unita al vino, sia segno della nostra unione, con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'Universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. E' vero che sei con il Signore. E' vero che sei con il Signore. Umili e pentiti, accoglici, oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a Te. lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore è stato il nostro nome di questo sacrificio, a Dio, e 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 a Dio. Accoglio, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli Angeli e ai Santi, cantiamo a una sola voce la Tua gloria. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli e terra, gloria Tua, osanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Osanna in excelsis. Veramente santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue Per la nuova ed eterna alleanza Versato per voi e per tutti In remissione dei peccati Fate questo in memoria di me Amén 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 Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo locale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e Suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Giacinta e Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ammè. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al Suo Divino Insegnamento, osiamo dire in lingua latina Pater Nostra, qui es in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, Sicut in cielo e in terra Panem nostrum quotidianum dan nobis odie Et dimitte nobis debita nostra Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentazione Sed libera nos amalo Liberaci, oh Signore, da tutti i mali Concedi la pace ai nostri giorni E con l'aiuto della Tua misericordia Vivremo sempre liberi dal peccato E sicuri da ogni turbamento Nell'attesa che si compia la beata speranza E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Tuo è il Regno Tua è la potenza E la gloria Nei secoli Signore Gesù Cristo Che hai detto ai Tuoi Apostoli Vi lascio la pace Vi do la mia pace Non guardare ai nostri peccati Ma alla fede della Tua Chiesa E donale unità e pace Secondo la Tua volontà Tu che vivi e regni Nei secoli dei secoli La pace del Signore Sia sempre con voi Scambiatevi il dono della pace Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Dona a noi La pace Signore Gesù Cristo Figlio del Dio vivo Che per volontà del Padre Con l'opera dello Spirito Santo Morendo hai dato la vita al mondo Per il santo mistero del Tuo corpo E del Tuo sangue Liberami da ogni colpa E da ogni male Fa che sia sempre fedele Alla Tua legge E non sia mai Separato da Te Ecco l'agnello di Dio Ecco colui Che toglie i peccati del mondo Beati gli invitati Alla cena dell'agnello O Signore non sono degno Di partecipare alla Tua mensa Ma di soltanto una parola E io sarò salvato Dobbiamo fare il canto di comunione Il Signore è il mio pastore Il corpo di Cristo mi gusta Ad ogni attesa In verdissimi prati Mi pace Il corpo di Cristo Mi senti la caccia di acque E il sole L'anima mia Tu sentieri Ti vissi Mi guida E l'amore E il tuo nome E il tuo nome E il tuo nome Mi sento Sì Tu don E il fondo E il cuore E il coso E il sole Il madre E il sole E il sole E mi segui vicino, mi sottieni col tuo tasto, con la grazia che sono compagno. Quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio, lungo tutto il mio cammino. Grazie. 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 Grazie a questa Santa Messa e di questi giorni di pellegrinaggio e di ritiro spirituale e di amicizia, affidiamo al Cuore Immacolato di Maria la nostra vita con l'atto di consacrazione. O Maria, Madre mia amabilissima, io figlio tuo mi offro oggi a te e consacro per sempre al tuo Cuore Immacolato tutto quanto mi resta di vita, il mio corpo con tutte le sue miserie, la mia anima con tutte le sue debolezze, il mio cuore con tutti i suoi affetti e desideri, tutte le preghiere, fatiche, amori, sofferenze e lotte, in special modo la mia morte con tutto ciò che l'accompagnerà, i miei estremi dolori e la mia ultima agonia. Tutto questo, Madre mia, lo unisco per sempre e irrevocabilmente al tuo amore, alle tue lacrime, alle tue sofferenze. Madre mia dolcissima, ricordati di questo tuo figlio e della consacrazione che fa di se stesso al tuo Cuore Immacolato. E se io, vinto dallo sconforto e dalla tristezza, dal turbamento o dall'angoscia, arrivassi qualche volta a dimenticarmi di te, allora, Madre mia, ti chiedo e ti supplico, per l'amore che porti a Gesù, per le sue piaghe e per il suo sangue, di proteggermi come figlio tuo e di non abbandonarmi fino a quando io non sia con te nella gloria. Amo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcello, Espes Nostra Salve. A te clamamus, et sul estili iete, ad te suspiramus, de mentes et clentes, in a clacrima rumale. Eia Ergo, Advocata Nostra, Ilos Tuos, Misericordiae sopulos, Ad noscombre Herte. E ti e nessun benedictum fructum ventris tui, nobis postate exilium ostere, o creme, o via, o dulce, e nulia e nulia e nulia, o via, o via, o via, o via, Grazie.